Salvatore Furci va ai domiciliari, l'ex comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio arrestato cinque mesi fa con l'accusa di aver messo della cocaina nell'auto della comandante della polizia locale di Corbetta, Lia Vismara. La sua azione è ritenuta una vendetta per non essere stato confermato dopo il periodo di prova da ufficiale a Corbetta. Furci è accusato di calunie e detenzione di droga. A scarcerarlo è stato il tribunale tramite il giudice Maria Pia Blanda che ha accolto l'istanza dell'avvocato difensore Gabriele Minniti. Il dibattimento sui casi di cui dovrà rispondere Furci è stato rinviato al prossimo 24 settembre in vista del processo. L'ex comandante ha già citato una serie di testimoni su cui strutturare la sua difesa. Soddisfatto è il difensore di Furci Gabriele Minniti che insieme alla collega Paola Bonelli assiste l'imputato. Il carcere era una misura eccessiva hanno detto lui è molto provato da questo lungo periodo dietro le sbarre e si professa innocente ed è convinto di poter dimostrare la sua estraneità ai fatti. Nella prossima udienza fissata per fine mese davanti ai giudici della quarta sezione penale verranno quindi sentiti i primi testimoni dell'accusa.